Se in generale non si può offendere una persona, ossia ingiuriarla o diffamarla, lo si può fare come reazione a un'offesa già ricevuta. L'offesa, in altre parole, è legittima quando è la risposta a una precedente ingiuria o diffamazione. Attenzione però, bisogna limitarsi a offendere, ma non si può né minacciare né usare le mani. Dinanzi alle domande della polizia bisogna dire la verità. Tuttavia, mentire alla polizia è legale tutte le volte in cui si è sospettati di aver commesso un reato. In questo caso, la legge tutela la persona indagata, consentendole di non rispondere alle domande, oppure di mentire pur di difendersi. Una volta assunta la qualità di indagato, inoltre, si ha sempre diritto a un avvocato, il quale dovrà obbligatoriamente assistere ad ogni interrogatore. Residenza e beni immobili non sono coperti da privacy. Chiunque può conoscere queste informazioni chiedendole rispettivamente all'Agenzia delle Entrate e al Comune, senza neanche bisogno di una motivazione. È sempre stato così per questioni di trasparenza.